buongiorno a tutti amici da castelluccio di noccia sto cercando i funghi qua che vali raggiù in fondo però non ce n'è tanti io non ho trovato uno dopo tanto girare qua c'è le pecore a pascolo ecco i cani che le sta radunando guarda 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 il cane che le sta radunando vedi ti sta radunando tutte quante insieme ecco il cane che va giù ecco il fungo che ho trovato io bello i turini tu as